L'antibiotico naturale che uccide germi e batteri, rinforzando il sistema immunitario Si è costantemente esposti a germi, virus e batteri che, in alcuni casi, possono rappresentare un rischio per la nostra salute. . È proprio per questo che gli esperti suggeriscono di assicurarsi di avere un sistema immunitario in forma, e ciò lo si può ottenere facendo le giuste scelte alimentari. Yogurt. Assicurarsi che il proprio sistema digestivo contenga le giuste quantità di batteri probiotici buoni è importantissimo per tenere alla larga le malattie. . Questi batteri buoni producono il 70% delle cellule immunitarie di cui abbiamo bisogno per combattere virus e batteri. Per assicurarti di ciò, mangia uno o due yogurt naturali al giorno. . Bere mezzo litro di tè verde al giorno riduce il rischio di influenza e raffreddore del 25%. Le catechine contenute nel tè verde aiutano a bloccare i virus. . . Carote. Sono ricche di carotenoidi, composti che aumentano la produzione di anticorpi. Includi una porzione di carote nella tua dieta quotidiana. . Prendere 2000 IU di vitamina D3 al giorno ci aiuta a ridurre il rischio di ammalarci di influenza e raffreddore. Questa vitamina dà energia alle cellule immunitarie, rendendole più efficaci nella lotta contro virus e batteri. . Consulta un medico prima di prendere qualsiasi integratore. .